Quando esce un nuovo titolo di una saga piuttosto conosciuta, è buona norma portare un video. Certo, dipende poi dal titolo e dalla saga, però in questo caso si tratta di Kirby. E con soli 15€! Scaricabile dall'eShop c'è Kirby's Dream Buffet. Nuovo titolo per Kirby, multiplayer only, da quello che ho capito, ma vediamo insomma ora entrando nel gioco se c'è anche una modalità single player, ma mi tufferò nella mischia e cercherò di diventare il più mangione di tutti. Già sono sulla buona strada. Oh, guarda un po', quanto è carino. Benvenuti in questo primo episodio di Kirby's Dream Buffet. Non so se ci saranno altri episodi, per il momento questo è il primo. Direi di andare al menu principale, visto che è appena iniziata la partita. Allenamento libero! Quindi questa è una modalità single player, no? Vediamo insomma di darci da fare e capire come giocare. Abbiamo battaglie, online e gioco in locale con gli amici. Fai una partita a 4 giocatori contro la CPU, oppure dai un gioco a un amico per giocare in locale. Quindi c'è la modalità single player, però io direi di fare online, no? Dai. Ok, tutti quanti vedranno il mio nome giocatore. Ho l'abbonamento io a Nintendo online? Mi sa di no. Ho la prova gratuita? Fai quella prova gratuita, sì. Vabbè, me lo shardo su Kirby, dai. Ma perché è disponibile la prova gratuita? Mi shardo l'abbonamento su Kirby. Rotola, mangi e diventa più grande. Più grande diventi, più veloce rotoli. Perfetto. Più piccolo se è più lungo puoi volare. Ha senso? Il Grand Prix continua quando vengono mangiati tutti e tre. Ah, ma il giocatore che arriva prima è una prova a capare quella più grossa, no? Attacca gli avversari più grossi per rubare le fragole. Partita casuale. Vediamo un po' se c'è qualcuno online. C'è qualcuno online? Che tra l'altro in America questo se non sbaglio è uscito ieri. Oh, foh, ok. Ah, siamo pronti? Ricerca conclusa, vai. Let's go allora. Vediamo un po'. Prima partita vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa da giudicarci. Rotoli farciti, tortine, pancake e torte intere. Yeah! E qui vado lì? Che fanno lì? Ah, ok. Oddio, lag! Chi è che ha la connessione cacca? Io no, io ho la connessione buona, lo so per certo. Eh, eh. Ma ruota in maniera strana. Wow! Ok. 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 È più grande, ho capito, fammi rotolare. Ok, dai, combatti, combatti. Ma sbaglio o l'input viene dato in ritardo? Wow! Attenzione! È pazzo. Ma non ho pres... Oh! No, 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 no. Vola, 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 Kirby, vola. Mannaggia! Levatevi dai piedi. Eccolo, ora prendo un po' di turbo. Vai, let's go. No, ha preso lui. Levatevi dai piedi. Fatemi strada. Oddio. Ah, ha preso... Ma chi l'ha preso? Ma hai rubato il potere? Non vale, non vale. Mangiare questa. Vai, 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 vai. Ok. Ho preso una piccola, ho preso. 37 sole io. Oh, no! Non figgi i nemici e mangia le fragole. Ok. Ah, ma vengono generati alla sole? Come funziona? Ok, questo qui, questo qui... No, dai, no, ma... Non ci sto capendo niente. Che disastro! 38, a che schifo faccio! Corri verso i monti di fragole. Va bene! Amici miei, devo rifarmi ora. E che... Ah, qui... No, qui non devo premere niente. Qui rotola da sotto, rotola. Sì, però vai! E lei... Ma che fai? Oh, pirata! È matto? Ma io lo denuncio, eh! Dai! Oh, 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 yeah! Dai, vai a quel paese! No, niente. Così. dobbiamo fargli capire chi ha che comanda. Lei ci sono io. Ah, ah, ah! La capisci l'aria? Quando tira? Vai! 60 ne ho prese? 60 ne ho prese? Ok, buono! Un po' di boost. Ok, grande Andrelink. Ma è così. Oh! Oh! Oh, no! No! Ok, niente. Lasciamo aperto. Va di là, vado. Fa nulla, fa nulla. Ok. Ah, ah! Primo! Vai! Questa era facile. O semplicemente ci sta... Cavoli! Non me ne ero accorto che dovevo mangiarle! Non me ne ero accorto che dovevo mangiarle! Che tonto! Vabbè, secondo, dai. No, potevo batterlo Fou. O Fau, come ti chiami. Vinci la battle royale gourmet! Eh... Oh! Eh sì! Eh sì! Eh non lo so! Ah! Gelatina mi fa abbassare. Ora ho capito. Ho capito. Va bene. No! 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 Non io! Non io! Dio! Dio lago! Dio! Mi ha sgonfiato! Sgonfiami nella vita vera! Troglodita! Animale! Oh! Fome! Hai rotto il capranzi! Eh... Cioè... Anche il palle. Un po' tutto è rotto. Vabbè, secondo, mi accontento per la prima gara, dai. Oh! Stavo per cascare! Senti come incalza la musica? No! Che bontà! Secondo però, dai, dai! Va bene, va bene! Per essere la prima gara va benissimo! Potrei infognarmici seriamente in questi giochi, così, eh? Io sono malato per sta roba. Oh! Eh, vabbè! Eh, oddio, ha vinto di un bel po' ha vinto, eh! Non male! Ah, ci sono anche i costumi, sì! Rosso fuoco e verde foglia? Che sono serie, c'è verde foglia? Anche i brani che sono di dischi di cioccolata, belli! Ah! Ah, ma qua ci sono anche i personaggi di Forgotten Land. La terra perduta? Che poi terra perduta ce l'ho, ma non l'ho ancora giocato. Ah, i colori qui sotto. Buono. Vai, facciamo un'altra partita, allora. Ah, ma quindi se giochi online guadagni anche più punti? Perché c'era scritto bonus online. Pasta! Ci sta? Piuk. Va bene, ok. Hamburger. Fammi leggere, animale! Chi è che preme A? Quel mona! Vado il dì, fuori dalle scatoline, eh! Uoi! Ah, fresca te! Uoiea! Uo! Come corre! E dai! Ma cosa? Ma che è successo? Ma fermati! Ah, arrivo! Io me la godo! Sì, però, allora, senti. Forse non ci siamo capiti noi. Ok, non mi è andata bene proprio, perché c'era quel tipo lì. Oh, si vola! Martin Garrix! No. Guardalo. E' tipo Mario Kart, la prima gara. Eccolo! No! E' fregato all'ultimo! Bravo, bravo, bravo. Ok, è la prima andata. Andy, 76. Eeeh, vabbè, Andy. Che pro che sei, Andy. Andy. Ma dove sono io che non capisco nulla? Grazie, non ci sto capendo. E chi me l'ha presa quella? O chi me l'ha presa? Era mia! Eeeh, Andy, però! E' rotto, Andy! Mangia di meno, per favore! Andy! Eh! Te lo chiedo come favore personale, ti pago? Guarda, Alessio, ma chi è? C'è qualcuno che gioca con i Waddle dì? Eeeh, ma guarda quello quanto corre! I cheat c'ha! No, vabbè, no, 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 non è possibile. Ma dai! Ma se avevo il turbo, ma levati! Oh, yeah! Eccolo, così si fa. No, non l'ho preso, accidenti, a me. Come sono secondo? Ah, perché certo, conta il numero, non la posizione, certo. Certo, se quello là, Andy, è un mangione, porca miseria. Ah, fino a che non arrivano tutti, si può mangiare... Si possono mangiare le fregole che cadono. Ok, è giusto anche, no? Ah, ma ci sono anche campi diversi per le Battle Royale. Ah, interessante. Oh, sono primo! Oh, sono primo! Oh, io, io, oggi buon sì! Come godo? Come godo? Eh, però c'è la con me qua, la pinzatrice! Allora! Eh, dai! Allora, pinzatrice, mi ha un po' scassato i cosiddetti, eh! Ma guardalo, Andre Link, che vince la sua seconda partita! Ma, amici miei, ma che vi devo dire? Sono bravo! Eh, giochi per bambini, sono bravo! È gli altri che sono un problema! No, Andy! 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 Non ci provare, eh! 2,29! Perché ne ha mangiate... Alla fine le ha mangiate lui per i bonus! Non è giusto, però! No, costumare a World of Duty non mi piace. Arancione di... Beh, questo è carincio. Incubo nella terra dei sogni. Leone di fuoco. Un dolce. Anima di Mark Pixel. Ah, ma... Marks! È Marks! Devo vincere nemmeno una. Oh, oh! Che distacco per questa terza gara! Come si sta bene qui! Come si sta bene! Eh, è ancora in gara! Mamma mia, ragazzi, mamma mia! E sono ancora primo! Di poco, di poco, ma sono ancora primo. Ok, manca solo la Battle Royale in questa terza gara. Devo vincerla a tutti i costi. Terzo addirittura! Ah, mi fa perdere anche i punti! Ma io... No! Ora sono triste. Odio però sto costumino! Erphilin! Kirby 30 Universal Music Fest! Dopo all'attacco Kirby Animale Pixel! Ma l'ultima gara, dai! Magari arrivo al livello 10 e me la cillo! Non è... Non è da fare! E perdo punti livello! Vabbè! Marrone Hamburger! Eh no, fammi arrivare almeno al livello 10! Kirby Frost Adventure Wii! Ah! HRH! Niente, non è per me sto gioco! Non vinco mai! Ma vincerò! Vincerò! E quando vincerò... Avrò vinto! Vabbè, ad ogni modo amici! Per questo video è tutto! Vi ringrazio per averlo seguito in descrizione! Trovate ovviamente i link utili! E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video! Bye bye!